Camara è una novità disegnata dallo stilista Sergio Brioschi. È un mobile unico perché sono diverse composizioni che si possono realizzare, da colori molto caldi e tenui fino a colori molto freddi. L'abbinamento tra vetri e legni possono portare a qualsiasi declinazione del prodotto. Camara significa luna in arabo e anche in maltese. Questi grandi abbinamenti che abbiamo fatto nei primi prototipi ci ricordavano proprio un sogno, qualcosa di misterioso, queste linee molto esotiche. Azzurra è un prodotto che basa la propria esistenza sulla pienezza del vetro super trasparente che utilizziamo e le linee molto lisce, senza asperità, ci ricordano proprio l'ampiezza del mare e dell'acqua. La gamma lavanderie qui, in versione unica, ha lo scopo di essere un salvaspazio, soprattutto per certi appartamenti che sono appartamenti di grande qualità ma non hanno molto spazio, ma non vogliono rinunciare a tutte le comodità che può avere una lavanderia. Però non ultimo anche delle grandi ville che possono abbinare una lavanderia quasi come secondo bagno. Grazie a tutti.